A friend in need is a friend indeed. Che cosa vuol dire quando una persona recita questo proverbio? Ciao, sono Monica ad impara l'inglese con monica.com e nella lezione di oggi ti rivelerò il significato del proverbio in lingua inglese che ho scelto per te per questa settimana. A friend in need is a friend indeed means that if someone helps you when you are in trouble, that person is a true friend. A friend in need is a friend indeed significa quindi letteralmente che gli amici si riconoscono nel momento del bisogno. Quindi se una persona ti aiuta quando sei in difficoltà significa che quella persona è veramente una persona amica. Bene, per oggi è tutto, io ti aspetto alla prossima lezione con un nuovo English saying of the week e il mente ti invita a condividere, a taggare questo post con una persona che ritieni veramente amica. A presto!